Salve, salve e benvenuti in questo nuovo video qui su YouTube. Siamo in live come spesso ormai accade di pomeriggio e questo è un video davvero, 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 non so se l'ho detto già, davvero speciale, perché ieri pomeriggio ho comprato una nuova cover per il mio smartphone, un iPhone 11 Pro, beh, una cover gialla che va in pandan con i miei occhiali gialli. Dopo averla acquistata, ragazzi, gli ho anche applicato un adesivo dove c'è scritto Happy Camper e adesso il mio iPhone 11 Pro è maledettamente personalizzato. Mi piace? No! Potevo farne a meno? Sì, l'ho voluta comprare comunque, esatto. Ecco come spendo i soldi delle live, ragazzi. Ecco come spendo i soldi delle live. Facciamo un po' di ASMR, allora, dedicato a questa cover. Facciamo un po' di ASMR. Facciamo un po' di ASMR. Nel frattempo Alice ci domanda, ma il giallo è il tuo colore preferito? No! Non è il mio colore preferito, però non lo so, compro tutto giallo ultimamente. Scusate, ho i doppi occhiali, non so se si capisce. E niente. Quanto è costata, secondo voi, questa cover? Vediamo se qualcuno indovina il prezzo. 3 euro, 4 euro, 15 euro, nessuno ha indovinato fino ad ora. 2 euro, 15 euro, 15 euro. No ragazzi, aspettate. Mi hanno pannato a vita da TikTok. Mi hanno pannato a vita da TikTok. No ragazzi, non ci credo. Ragazzi, ma che cosa ho fatto? Pannato a vita. No, vabbè ragazzi, ma così comunque. Ma io non posso andare avanti così nella vita. Ma io non posso andare avanti così nella vita. E non posso andare avanti così nella vita, ragazzi. Ma poi perché è pannato a vita? Guardate. Accesso live, revocato a vita, ti è stato definitivamente negato il diritto di andare in live come presentatore a cose lei. Ma che cazzo ho fatto, ragazzi? Ma non ho fatto niente. Ma non ho fatto niente. L'utità è attività sessuale. Ecco, una delle principali. Ragazzi, ma quale nudità? Ma com'è possibile, ragazzi? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Nudità è attività sessuale. Ma come devo fare, ragazzi? Ma come devo fare? Mi hanno ripannato. Ma non ho fatto niente. Ma poi è il secondo panne che mi danno in questo profilo. È il secondo panne che mi danno in questo profilo. Ma com'è possibile? Porca miseria, va. Ma a vita mi hanno bannato. Mi hanno bannato a vita. Ho presentato il ricorso, ma tanto sappiamo che non me l'accetteranno mai. Ma come dobbiamo fare? Sì, ma mi hanno bannato a vita, non per sette giorni. Comunque la cover era costata un euro e cinquanta. Però dico, ragazzi, ma non è possibile, va. Ma non è possibile. Mi devo fare un altro profilo su TikTok. Non se ne può più. Non se ne può più. Ragazzi, non è possibile. Ma perché è bannato a vita? Ma io ho appena detto mi chiamano o no, mi stanno più bannando. Sì, un euro e cinquanta la cosa. Ragazzi, ve lo giuro, io sono esausto. Non è bannato per nudità e attività sessuali di adulti. Ma non ho fatto niente, ragazzi, da. Ma che cosa ho fatto? Manco un bacio ho dato. Mi hanno bannato, pannina. Da TikTok di nuovo a vita. Ma non è possibile, ragazzi. Non è possibile. Ma la cosa è, a vita. Non per sette giorni, a vita. Ma io non ho fatto nulla. Ma manco i baci così, ma proprio nulla. Ma come? E poi a vita. No, è possibile, ragazzi. No, vabbè, però. Ragazzi, ma voi capire? Ma io come devo andare avanti, ragazzi? Ma io come devo andare avanti così? Ma io ho proprio zero colp da una dieci, proprio non ho fatto nulla di sbagliato, zero. Ci stavamo parlando della cover. Ma, in generale, non sto facendo più niente di male, in generale. Cioè, lo state vedendo? Che non sto facendo più niente di male. Lo state vedendo? Cioè, manco le parolacce, dico, ormai. Manco le parolacce. Io non so veramente come dobbiamo fare, ragazzi. Io non so veramente come dobbiamo fare. E ormai la situazione è... Faccio un altro profilo, pannina, ma basta. Il terzo profilo, non sono arrivato nemmeno a mille iscritti col terzo. A quanto sono? 574 col terzo profilo. Ma tanto mi pannano subito. Ma tanto mi pannano subito. Aspettate che sta qua la registrazione, che stavo registrando il video, ragazzi. Stavo registrando il video. Ragazzi, non so se caricherò mai questo video. Nel caso, iscrivetevi al canale YouTube per supportarmi, lasciate un like, datemi i soldi con un abbonamento, in qualche modo, non lo so. Ora ci vediamo il video. Sono? 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 Oh, .